Amici 2023, scoppia la rivolta dei sulla giuria, vergogna, Cricca andava eliminato. Grande attesa per la quinta puntata del serale di Amici 2023 in onda questo sabato 15 aprile su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci sarà una nuova eliminazione definitiva che porterà all'uscita di scena di un altro dei concorrenti di questa edizione. Tuttavia, le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi, hanno scatenato la rivolta dei fan social, molti dei quali hanno puntato il dito contro le scelte della giuria e in particolar modo contro la decisione di salvare ancora una volta Cricca. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 2023 in onda questo sabato sera su Canale 5. Rivelano che si arriverà ad un nuovo ballottaggio eliminatorio, che vedrà in bilico tre allievi. Trattasi di Cricca, Ramone e Federica, il primo a salvarsi, per il volere della giuria dello show di Maria De Filippi. Sarà il cantante Cricca che, già in altre precedenti puntate dello show di Canale 5, era riuscito ad avere la meglio sugli avversari. Al rush finale, quindi, finiranno Ramone e Federica, stando a quanto riportato da Amedeo Venza. Ad avere la peggio sarebbe stata la cantante, costretta così ad abbandonare definitivamente i cast del serale ad un passo ormai dalla finalissima. Un verdetto che, tuttavia, ha scatenato la rivolta dei numerosi fan social del talent show. Molti dei quali hanno puntato il dito contro le scelte fatte dalla giuria nel corso di queste settimane, comprese quelle messe in atto durante questa quinta puntata che andrà in onda sabato 15 aprile su Canale 5. La giuria di quest'anno è davvero scandalosa. Stanno facendo delle scelte folli. Ha sentenziato un fan della trasmissione di Maria De Filippi. Vergognose le scelte delle giurie ad un passo ormai dalle puntate conclusive di questa edizione. Stanno eliminando i veri talenti di quest'anno, ha sbottato ancora un altro commentatore social del talent show. Cricca ancora una volta non è stato eliminato. La giuria quest'anno davvero pessima. Ha sbottato un commentatore dello show Mediaset. Non credevo di rimpiangere i tre giurati dello scorso anno. Un'edizione da dimenticare per le scelte folli di Malgioglio e Co. Ha scritto ancora un altro spettatore social che sta seguendo queste nuove puntate del serale di Amici 22 su Canale 5. Cricca ancora in gara è davvero uno schiaffo in faccia a tutti gli altri concorrenti. Realmente talentuosi, che sono stati eliminati nel corso di queste settimane. Il prossimo anno spero in una giuria competente per davvero. Ha chiusato ancora un altro fan della trasmissione di Maria De Filippi. Grafferul din tot sau toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe. Mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe. Chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo. Grasul nimenea altul, te-l vedeti sau carpo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens. Tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bar cu boss-ul, la cât de urât sunt. Cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie. De grade Celsius, să rămână spus și să te știe. Nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.